non ci resta che l'ultima Sì, ultima strategia anche in questo caso si tratta di una carta rossa ero indeciso, dico la verità se dare lo short su Booking o su Airbnb sono contento di averlo dato su Booking perché appunto l'amico Giovanni l'ha dato su Airbnb quindi sostanzialmente però le motivazioni sono le stesse sono ribassista su quello che è il settore del turismo in generale almeno nel breve perché secondo me Booking è un'ottima azienda così come lo è Airbnb però in questo momento non è interessante per gli investitori quindi la VU è esattamente in linea con quanto ho detto in precedenza settore in difficoltà timori legati alle nuove restrizioni timori legati alla variante Delta cancellazioni insomma qui secondo me chi va a comprare diciamo fa un atto di fede tra virgolette perché il grafico mostra tutto tranne che segnali di forza su questo strumento quindi nonostante il titolo mi piaccia io penso che nelle prossime settimane potremo continuare ad assistere a un ritracciamento questo non vuol dire che magari nelle prossime puntate o quando ci rivedremo a settembre a settembre non possa cambiare la mia visione magari dopo aver visto un'inversione a livello grafico quindi Enrico oltre alla debolezza mi viene da dire guardando proprio il grafico anche una fase di distribuzione che è stata violata sul fronte supportivo proprio nel corso di questa prima parte di settimana vediamo quella che è un'area supportiva posta indicativamente in una prossimità dei 1775 e 1175 e 1180 è un'area di resistenza posta nell'intorno anche di una storia psicologica importante quella dei 2500 se questo movimento fosse sfogato al ribasso nel corso delle prossime ottave si arriverebbe peraltro alla chiusura di quel gap rialzista che nemmeno con i minimi del febbraio 2021 è di fatto stato completamente chiuso Sì assolutamente io non ho voluto dare dei target così audaci perché diciamo la verità qui cambia tutto in modo molto molto veloce quindi secondo me il bello dei certificati turbo che ti offrono comunque l'effetto leva è quello di poter fare delle operazioni mordi e fuggi chiamiamole così e quindi secondo me avere dei target troppo ambiziosi soprattutto sugli short perché per quanto riguarda i long onestamente i mercati ci hanno dato segnali di forza negli ultimi anni e così quindi diciamo non abbiamo un rischio così diciamo importante soprattutto se si vanno a comprare titoli buoni sugli short secondo me bisogna fare attenzione quindi in questo caso io ho cercato di mettere degli stop e target abbastanza stretti proprio per non essere eccessivamente esposto al settore del turismo che come sappiamo è un settore in questo momento molto molto rischioso e è possibile che mettendoci le mani ci si lasci lo zampino insomma quindi i livelli operativi che ho scelto per voi sono questi l'ingresso entriamo a 2.050 dollari per azione ci stoppiamo a 2.150 dollari il target lo mettiamo appena sotto la soglia psicologica dei 2.000 dollari per azione quindi a 1.980 dollari su questo sono abbastanza convinto quindi do 4 stelle grazie 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 a tutti.